Musica Buondi a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo caldissimo e morbidissimo scaldacollo che io ho deciso di chiamare scaldacollo XL e fa parte dei nostri progetti facili e veloci da realizzare nel giro di veramente poco tempo un giorno o qualche ora perché è più veloce un po' come me e può essere utilizzato poi come regalo di Natale o regalo durante l'inverno per poterlo realizzare, mi avvicino ve lo faccio vedere, ho utilizzato il fantastico gomitolone della DMC linea Pirouette XL se ricorderete l'ho già utilizzato per realizzare il bomber bosco questa volta come colore ho portato per il 1102, quindi questo che ha queste colorazioni veramente molto belle con il viola, con il verde, con il blu, veramente fantastica e per fare questo scaldacollo ho utilizzato un solo gomitolone lavorando con l'uncinetto del 5.5 vi ricordo che ogni gomitolo è da 200 grammi misura 300 metri e sul sito sono disponibili anche altri colori guardate, uno più bello dell'altro per fare appunto degli scaldacollo molto colorati ma comunque con colori non accesi, quindi fantastico, ben abbinabili ora come vi ho detto basta un solo gomitolo e vi dico anche che come circonferenza questo scaldacollo è circa 87 cm mentre in altezza circa 38 cm se lo volete ancora più morbido, soprattutto perché ha una mano stretta io vi consiglio di lavorare con l'uncinetto numero 6 la lavorazione è in tondo ed è abbastanza alto perché non solo io lo posso ripiegare su se stesso ma in caso di pioggia lo posso usare anche come cappuccio guardate qui e dietro come potete vedere mi copre tranquillamente il collo quindi mi copre dalla pioggia ma riesce a coprirmi nonostante tutto anche il collo anche se lo alzo, per questo l'ho chiamato XL detto ciò, spero che anche questa creazione facile e veloce ti piaccia che desiate realizzarlo e se così come sempre mi raccomando mandatemi fuori le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sfirozzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro scaldacollo io vi dico che utilizzerò il filato che so che ho utilizzato il filato della DMC linea XL guardate questo fantastico come un telone se ricordate l'ho già usato per il Bomber Foresta però questa volta ho optato per il colore 1102 che ha queste fantastiche sfumature allora io già vi faccio vedere lo scaldacollo finito in modo tale da parlarvi bene un po' delle cose allora sono due giri che vanno sempre ripetuti e ho utilizzato un solo gomitolone lavorando con l'uncinetto del 5.5 i giri da ripetere sono due sono semplicissimi vi do soltanto due consigli allora se avete una mano stretta andate a lavorare con l'uncinetto del numero 6 per realizzare le catenelle iniziali lavoratele con l'uncinetto del numero 6 e poi andate a lavorare col 5.5 quindi se invece avete una mano stretta e lavorerete col 6 mi raccomando le catenelle giù fatele con il 6.5 ora per quanto riguarda il multiplo il multiplo è semplice è un multiplo di 3 e io per ottenere una larghezza di circa 87 cm ho montato 90 catenelle mi raccomando questo mi serve soprattutto perché dalle foto che avete visto all'inizio io lo voglio indossare anche come cappa quindi ho bisogno che le catenelle sotto non mi stringano sulle spalle per questo ho optato per lavorare con l'uncinetto il numero 6 le catenelle e poi andare a lavorare con l'uncinetto il 5.5 ora potete fare naturalmente più stretta più larga come preferite e multiplo a quello di 3 ma io vi consiglio per qualsiasi taglia voi siate di non esagerare quindi se siete una taglia M magari rispetto a me montate soltanto 3 motivi in più mentre se siete una taglia L montate soltanto 5 motivi in più in questo caso però tenete presente che utilizzando un solo gomitolo viverà più piccolo quindi invece più basso quindi invece dei miei 39 circa 39 centimetri ve ne verrà meno due giri in meno anche forse tre giri in meno quindi vi verrà più basso e non potrete fare quindi da cappuccio quindi in quel caso vi consiglio di andare a prendere due gomitoloni in modo tale da farlo l'alto quanto il mio e per il filato che vi avanza potreste comunque fare un bel paio di guanti da poter abbinarci però io vi consiglio alla fine di lasciare così come è l'utilizzarlo soprattutto come scaldacollo e come cappuccio più che come cappa detto ciò quindi vi faccio vedere le lavorazioni qui vi mostrerò con un filato diverso sto lavorando con l'uncinetto un po' più piccolo però la procedura che andiamo a fare è la stessa ricordate che ho montato 90 catenelle e quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo torno indietro quindi non vado avanti ma torno indietro salto l'ultima catenella e vado in quella successiva quindi tornando indietro e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti in questa maniera quello che andiamo a fare adesso lo faremo quindi per tutto il giro salto 2 catenelle entra nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione prendo il filo torno nella prima catenella saltata quindi questa è la seconda questa è la prima e vado a fare la mia maglia alta e rilievo e devo fare questo quindi per tutto il giro salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro nella prima catenella vado a fare una maglia alta e vedete avviene il nostro primo giro con le maglie alte incrociate e dobbiamo fare questo quindi per tutto il giro quindi ripeto ancora saltiamo 2 catenelle entriamo nella terza andiamo a fare una maglia alta catenella torniamo nella prima catenella saltata e andiamo a fare una maglia alta rilievo sul davanti quindi continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminare come iniziare poi il secondo giro sto terminando il giro quindi ho fatto l'ultima maglia in ultime due maglie incrociate entrò nella catenella e vado a fare una maglia bassissima e andiamo a fare il secondo giro andiamo a realizzare due catenelle che sono sta prima maglia alta mezza maglia alta andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella devo fare un'altra mezza maglia alta andiamo sopra la maglia alta successiva un'altra mezza maglia alta e continuiamo così per tutto il giro vado dove ho la prima maglia arte vado a fare una mezza maglia alta vado nell'archetto un'altra mezza maglia alta vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare una mezza maglia alta continuiamo quindi così per tutto il giro mezza maglia alta sopra la prima maglia mezza maglia alta nell'archetto di una catenella mezza maglia alta nella maglia alta finale continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminare come iniziare poi il secondo giro molto molto semplice sto terminando anche il secondo ultimo giro ho fatto l'ultima mezza maglia alta entrò nella seconda catenelle vado a fare una maglia bassissima quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti ora però per non fare che si veda che l'inizio alla fine del giro vadano lateralmente quindi che si veda questa striscia dove si inizia e si finiscono il giri nel iniziare il secondo giro con delle maglie bassissime io mi porto dove ho la terza mezza maglia alta quindi la prima è quella data dalle catenelle la seconda e la terza a questo punto quindi inizio invece a fare la lavorazione vera e propria quindi 3 catenele che sono mia prima maglia alta catenella di separazione torno indietro dovevo la prima mezza maglia alta chiusa alla prima mezza maglia alta del giro e vado a fare la mia maglia alta incrociata e poi ricomincio da capo quindi salto due mezze maglie alte entrò nella terza vado a fare una maglia alta catenella torno indietro nella prima che ho saltato e vado a fare una mezza una maglia alta incrociata e si continua così per tutto il giro se ne saltano sempre due maglia alta catenella si rientra nella prima saltata si va a fare la maglia alta incrociata quindi ripeto questi sono i due giri alla fine vi dirò quante volte l'ho ripetuto come avevo detto anche già all'inizio comunque mi è venuta circa alta 38 centimetri però vi dirò come necessariamente quanti giri sono andate a fare allora io sono arrivata a fare tutto il mio scaldacollo vi dico già che ripetendo i giri o lo ripetuti per una due tre quattro 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e ho ripetuto prima il primo giro per finire tutto il gomitolone mi è venuto alto circa 38 centimetri mentre come larghezza stiamo sui 43 centimetri questo vi ricordo perché io lo voglio bello largo vedete verrà una volta indossato in questa maniera quindi largo che si chiude che addosso quindi molto molto carino quindi dicevo ho terminato il mio scaldacollo non farò alcun tipo di bordino lo lascerò così com'è molto semplice perché voglio che sia soprattutto il filato a risaltare